Probabilmente per trovare in Italia un precedente assimilabile alle risorse messe in campo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si deve tornare indietro al Piano Marshall. Una considerazione che rende a pieno la portata di un'opportunità, che per essere colta richiede però professionalità e conoscenze specifiche elevate. Per questo, a Mestre, l'Ordine degli Ingegneri di Venezia ha avviato un progetto per ora unico nel panorama del Nord-Est. Formare e formare i professionisti affinché quello che solitamente non riusciamo a fare, cioè realizzare le opere in tempi molto brevi, finalmente si riesca a fare. Ingegneri, architetti, geometri, ma anche altri avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, riguarda tutto il mondo delle professioni. Le figure coinvolte sono molteplici, poiché viene affrontata la complessità delle opere a 360 gradi, anche di quelle complementari che si andranno a realizzare nei territori. La Regione ha steso i primi obiettivi, le azioni principali su cui dovrà investire, e tutto questo, diciamo, supplemento, surplus di finanziamenti che impatti sul miglioramento dei servizi, della condizione sociale dei cittadini veneti. La platea potenziale di professionisti interessate è di oltre 100.000 iscritti agli albi professionali del Veneto, ai quali si può assicurare piena conoscenza dell'evolversi delle procedure di realizzazione del PNRR, con la coscienza che in un paese a volte schiacciato da lungaggini e burocrazia di vario genere, stavolta bisogna fare presto. A livello governativo i passaggi sono stati fatti anche abbastanza velocemente, alcuni dicono troppo velocemente, però se questi sono i tempi che ci hanno dato l'Europa, no, bisogna essere assolutamente ottimisti, quindi noi ingegneri dobbiamo metterci al servizio di queste procedure e cercare di fare il meglio possibile.